Salve a tutti amici nemiche del canale, state tutti bene? Io spero di sì. Io sto molto bene, sto salendo in Val Codera, come vi ho anticipato nei precedenti video, e mi trovo in un punto molto particolare, in cui sono nel bosco ormai, dopo la prima parte molto più esposta, non pericolosa ma comunque esposta, e popolata soprattutto dalla macchia mediterranea. Qui invece sto entrando nel castagneto. Alle mie spalle però ho anche delle altre tipiche piante mediterranee, questi fiori gialli che vedete sono fiori di ginestra, proprio per sottolineare ancora una volta la particolarità del luogo. Dietro di me, alla mia destra invece, c'è un castagno veramente spettacolare, particolarissimo, che ha tantissimi anni, ha più di 400 anni, è una cosa incredibile. È uno dei castagni più vecchi di tutta la valle, e ha anche peso nel circondario, perché una volta le piante non venivano sfruttate solo per un po' di anni, ma venivano continuamente potate per mantenere una produzione, essendo che bisognava sopravvivere semplicemente vivendo dei prodotti della terra. Il castagno era molto usato, perché si usava praticamente per tutto. Col suo legno si aveva la legna da ardere, ma si facevano anche pali e tanti utensili, essendo che è un legno ricco di tannino e che quindi si conserva molto bene, anche rispetto a tarli ed altri parassiti. Con le foglie si faceva la lettiera per le stalle, ad esempio. Con le castagne, beh, ci si faceva veramente di tutto, perché si usava per la farina, si usava per i dolci, si faceva la polenta, cioè si sopravviveva grazie a mamma castagno. Io la chiamo mamma castagno perché è una pianta veramente molto materna, molto accudente, molto nutriente, come ho appena spiegato, e la sua energia è molto femminile. Infatti a me piace tantissimo stare nei pressi o sotto addirittura ai castagni proprio per questa sua accoglienza e allo stesso tempo per riequilibrarmi, perché come molti di voi sapranno, perché è una cosa abbastanza conosciuta adesso, stare sotto il campo elettromagnetico di un albero aiuta a riequilibrare anche il proprio, essendo che l'albero è intimamente connesso, è una cosa sola, con madre natura. È una parte essenziale, senza di cui non avremo neanche l'ossigeno per respirare, quindi figuriamoci, altro che le castagne. Ci vediamo dopo nel prossimo video.